Si è tenuta il 28 giugno a Los Angeles la premiere di Mignons, che arriverà nelle sale italiane il prossimo 27 agosto. C'è ovviamente grande attesa per lo spin-off di Cattivissimo Me, diretto da Pierre Coffin, Kyle Balda e con Sandra Bullock nei panni, nella voce più che altro, di Scarlett's Terminator, la prima super cattiva al mondo, nonché padrona del simpatico trio composto dai Mignons, Kevin, Bob e Stewart. Proprio l'attrice premio Oscar ha stupito tutti sul red carpet con un look che a qualcuno ha ricordato, quello di Angelina Jolie alla premiere parigina di Maleficent. L'abito indossato dalla Bullock, un Roxanda, richiama infatti i colori del film, ma sono le scarpe firmate da Rupert Sanderson ad aver conquistato tutti, con il chiaro riferimento Mignon. Per completare l'outfit, Sandra ha poi optato per occhiali da sole di Dolce Gabbana. Grazie.